L'indagine della polizia stradale è partita da Taranto ma si è rapidamente allargata a tutta la regione, in particolare nel Foggiano a Cerignola, dove sono state eseguite cinque delle sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale del Capoluogo Dauno. Una sesta persona è ancora da rintracciare. Si tratta solo di uno stralcio di una più ampia indagine che ancora riserva sorprese. Nelle ordinanze attuali le ipotesi di reato in concorso sono di furto aggravato, tentato e consumato, simulazione di reato, ricettazione di merce di provenienza furtiva, detenzione e porto abusivo di armi. Tutto partì nell'ottobre del 2011 quando in agro di Mottola si verificò un grosso furto ai danni di un'azienda di prodotti alimentari. A questo furto ne fecero seguito molti altri provocando danni per alcuni milioni di euro e spesso mettendo in ginocchio le attività imprenditoriali. La chiave di lettura dell'indagine è venuta dai veicoli industriali utilizzati per caricare la merce sottratta. Tutti veicoli che avevano una intestazione volutamente diversa al pra registro automobilistico e quella presso la motorizzazione civile. Gli autotreni con la merce rubata dunque a qualsiasi controllo di polizia risultavano essere assolutamente in regola e puliti. La merce rubata a Taranto, salumi, formaggi, olio, grano e anche bibite finiva ricettata in grandi depositi del foggiano per essere poi venduta.